Buonasera da Marco Capulli e ben trovati con informazioni di Arezzo TV. Cominciamo subito con la cronaca. Arresterà in carcere l'uomo che lo scorso lunedì ha aggredito a martellate la moglie di Pozzo della Chiana. Questo è quanto deciso dal GIP nell'udienza di convalida dell'Aresto. Sentiamo. È rimasto in silenzio di fronte al giudice Stefano Cascone, il 53enne di Pozzo della Chiana che lo scorso lunedì ha aggredito la moglie a colpi di martello all'interno della loro abitazione. Si è infatti avvalso della facoltà di non rispondere nel faccia a faccia con il GIP che al termine dell'udienza di convalida dell'Aresto ha deciso che l'uomo dovrà restare in carcere accogliendo così la richiesta del PM Laura Taddei. Il 53enne sul quale pende la pesante accusa di tentato omicidio per il giudice sarebbe infatti ancora pericoloso. L'avvocato Giacomo Chiuchini aveva invece chiesto per il suo assistito una pisura meno pesante. Il 53enne prima della chiusura delle indagini potrebbe comunque rendere interrogatorio. La moglie, 48enne, commessa in un supermercato di Bettolle, intanto ha provveduto a sporgere denuncia nei confronti del marito dal quale sembra volesse separarsi. È fuori pericolo e si sta lentamente riprendendo ma ancora si trova all'ospedale delle Scotte di Siena dove l'è stata refertata una prognosi di oltre 30 giorni per le ferite alla testa. Ancora da chiarire il movente al lavoro i carabinieri che portano avanti le indagini e che hanno già sequestrato il martello con cui l'uomo ha agito. I momenti di panico questa notte al centro di accoglienza della Caritas di Arezzo dove è stato arrestato un uomo nigeriano di 27 anni per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per una lite tra due ospiti. I militari hanno fermato il 27enne in preda a una crisi psicotica da stupefacenti che per futili motivi e senza un'apparente valida ragione ha minacciato il compagno a distanza puntandogli una sfera al collo. L'uomo ha poi aggrinto e minacciato anche i carabinieri sferrando calci e pugni tanto che uno degli agenti ha riportato lievi disioni ad un braccio. Per lui sono scattate le manette. Ancora un arresto per spaccio ad Arezzo. In manette è finito un cittadino tudisino di 48 anni con precedenti per reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra mobile hanno infatti trovato nella camera del centro storico di Arezzo dove l'uomo dimorava 19 dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute oltre che della somma di contanti di 260 euro divisi in banconote di piccolo taglio ritenuti dai poliziotti provento dell'attività di spaccio. Soldi e droga sono stati messi sotto sequestro. Ancora cronaca. Un 43enne del Pakistan, titolare di un autolavaggio di Camocia, è stato denunciato dai carabinieri durante un controllo emerso che l'uomo avrebbe violato la normativa in maniera in materia di sfruttamento dell'immigrazione clandestina. Infatti sono stati segnalati due dipendenti della ditta di 27 e 32 anni, anche loro pakistani, irregolari sul territorio italiano. Entrambi erano senza documenti e sono stati portati in caserma. L'autolavaggio nel tempo è stato chiuso. Prosegue senza sosta l'ondata di maltempo che ha coinvolto tutta la nostra regione ed anche il nostro territorio della provincia di Arezzo. L'Arno resta il sorvegliato speciale. Sentiamo. Massima attenzione. Da Capolona, Subbiano, da Castelluccio a Ponte Buriano, dove gli archi sono quasi del tutto pieni. L'Arno, anche in provincia di Arezzo, resta così un sorvegliato speciale. A Subbiano è stato infatti già superato il secondo livello di criticità. Al momento sul territorio provinciale Aretino non si registrano comunque particolari danni o disagi, come invece è avvenuto in altre zone della Toscana. L'Unione dei Comuni Montani del Casentino ha approvato un'ordinanza che stabilisce la chiusura immediata e temporanea per impraticabilità della pista ciclabile sull'intero territorio di competenza dell'ente. Poi l'invita ai cittadini a non circolare nella zona vicino ai corsi d'acqua e nei pressi della ciclopista, considerata l'allerta arancione su tutta la vallata per piena dei fiumi e rischio frane. La sala operativa unificata della protezione civile ha prolungato la vigilanza, connotandola con il codice giallo per i rischi idraulici del reticolo principale minore per temporali in tutta la regione fino alla giornata di venerdì. Unica eccezione temporale è l'area pertinente al reticolo principale dell'Arno, dal Casentino alla costa, che vedrà terminare invece l'allerta sabato alle 12. Dunque gli occhi restano puntati al cielo e all'evoluzione del maltempo. Ieri il Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo ha ospitato il consueto brindisi degli auguri, occasione anche per fare il punto dell'intero anno. Vediamo. Il Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo Con un bellissimo concerto e l'esibizione delle ragazze della ginnastica Petrarca, il Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo ha ospitato il tradizionale brindisi di auguri. Sì, assolutamente è stato un anno particolarmente impegnativo da tanti punti di vista, perché comunque la pandemia ha continuato ad accompagnarci, anche se con meno preoccupazione. C'è stata una recrudescenza di alcune tipologie di reato e chiaramente la guardia non può mai essere abbassata in nessun momento. La risposta c'è stata, c'è e ci sarà. Presso il Palazzo della Prefettura tutte le autorità, civili, militari e religiose della provincia di Arezzo, presente anche il nuovo vescovo Andrea Migliavacca e tra gli ospiti il tenore Mario Cassi e Enzo Ghinazzi in arte pupo. Agli auguri della Prefettura anche Enzo Ghinazzi, è un piacere trovarci qui nella nostra Arezzo, quindi passerà le feste tra di noi in famiglia? A dire la verità fino al 21 sarò a casa, ma il 21 sera sarò a Roma, perché il 22 mattina parto per l'estero e andrò molto lontano a passare le feste sia il Natale che il Capodanno. Il Capodanno lo farò a Samarkanda in Uzbekistan e il Natale lo farò in una bellissima città della Siberia. Quindi Arezzo fino al 20, però con la gioia di sempre. Non puoi spezzare questa atmosfera natalizia, ma tu ti sei speso tante volte per questa guerra che purtroppo non finisce fra un po' e un anno, insomma, dal primo giorno di invasione. La cultura però continua a far discutere, perché? E' terribile, la guerra è terribile, ma è terribile anche l'ostinazione di chi non vuole capire che l'occhio per occhio, dente per dente non porterà a niente. Scusa, fa anche una tristissima rima. Quindi ci vuole davvero uno sforzo, soprattutto da parte dei grandissimi poteri politici, economici che non sono né l'Ucraina, direi neanche la Russia. Altri devono assolutamente lavorare e volere la tregua. Ad Arezzo il Capodanno sarà in piazza Sant'Agostino, dove tornerà alla festa dopo due anni di stop. Anche in questo caso ci sarà un grande lavoro sul fronte dell'ordine pubblico. Sì, non è l'unico evento e quest'anno sono tornati un po' anche forse più che in passato anche tutte le altre manifestazioni che connotano la nostra città di Arezzo e a cominciare dal forum, piuttosto che la città del Natale, ma anche la giostra in un'edizione, diciamo, completa, senza limitazioni, per cui anche la prossima sarà una sfida che accetteremo e affronteremo volentieri. Che cosa si augura per la nostra città e per tutto il suo territorio? Beh, naturalmente non potrei che dire anche banalmente forse il meglio, ma quello che mi auguro in particolare è che tutti trovino dei nuovi motivi di entusiasmo, perché purtroppo quello che ci è mancato e che in qualche modo ha un po' condizionato anche la nostra vita negli ultimi periodi è proprio questo, l'incapacità dettata proprio da fenomeni esterni anche al nostro modo di pensare di entusiasmarci per qualcosa, quindi auguro veramente a tutti nell'affrontare il nuovo anno che sia un anno carico di entusiasmo. Arezzo è risultata trentasettesima nella classifica della qualità della vita, è una graduatoria che viene stilata come ogni anno dal quotidiano Il Sole, 24 ore, ne abbiamo parlato con Pupo. Sentiamo. Mi sei espresso ultimamente anche sulla qualità della vita, noi siamo trentasettesimi, Arezzo Siena è quarta, io mi sono permessa da retina di sottolinea, ecco, quindi riportiamo in su questa classifica. No, se non mi sono espresso, ho detto semplicemente che Arezzo è un concentrato di tutto, è un'eccellenza storica, culturale, economica anche, però purtroppo una parte di retina e sono soprattutto quelli che forse anche più abbienti e non riescono a stare al passo con questa offerta. Va bene, facci un augurio tuo personale per queste feste, per questo Natale così speciale che spero ci faccia uscire dalla pandemia e presto anche dalla guerra. Io ringrazio Maddalena, il prefetto che mi ha invitato, una persona straordinaria, mi ha invitato a questi auguri, è la prima volta che partecipo a auguri istituzionali e io da qui, da questo luogo appunto che rappresenta la città, perché il prefetto è rappresentante dello Stato nella città, io vi dico non mollate mai, lottate, perché la vita è fatta di attesa, proprio di attesa e di sofferenza è in questo clima che si riesce a trovare la serenità e l'equilibrio per vivere. Auguri a tutti. E Arezzo è ancora al buio, i lampioni sono rimasti spenti ancora una volta, nonostante sia passata una settimana da quando il Comune ha fatto marcia indietro e ha ripristinato l'illuminazione pubblica, così come era prima del caro. Bollette, sentiamo. Arezzo ancora al buio, è passata più di una settimana da quando il Comune ha annunciato la marcia indietro per ripristinare l'illuminazione, ma ancora nulla. Questo video ci arriva da Palazzo del Pero, una farzione alle porte di Arezzo. Cittadini, esercenti, lavoratori, insomma, tutti stanno subendo importanti disagi. Tante le foto postate sui social di parti della città, completamente al buio e c'è chi mette in dubbio, ironicamente si intende, che con questa situazione nemmeno Babbo Natale si salvi. Anche il consigliere comunale Meri Cornacchini, che si trovava in auto alle 6, ha postato alcune immagini. A rispondere sul perché di questo ritardo rispetto all'annuncio che venne dato dall'amministrazione comunale lo scorso 7 dicembre, è il direttore Serena Chieli dell'Ufficio Manutenzione Strade del Comune di Arezzo dalle colonne del Corriere di Arezzo. È una questione di tempi, afferma, abbiamo fatto la delibera mercoledì, poi c'è stata la festa di mezzo e quindi il fine settimana. Però siamo di nuovo ad un altro fine settimana e nulla. Si tratta di orologi crepuscolari, dice ancora la Chieli, che devono essere reimpostati come erano prima della fase sperimentale. Ogni orologio deve tornare praticamente a come era, ecco perché ci vuole del tempo per reimpostarli tutti. Insomma, cari aretini, armatevi di pazienza. E anche ad Arezzo si prepara la festa per il Capodanno con il consueto Viglione, questa volta sarà Piazza Sant'Agostino. E l'associazione Arezzo che spacca è quella che si è aggiudicata all'organizzazione. Come naturalmente è deluso il secondo arrivato, ovvero il patron di Arezzo Wave, Mauro Valenti, che abbiamo sentito nella prossima puntata di Bobo 7. E ora vi facciamo vedere un estratto della nostra rubrica curata da Massimo Gianni. Oggi ci occupiamo dell'assegnazione del bando per l'organizzazione della festa dell'ultimo dell'anno che si svolgerà in Piazza Sant'Agostino. Erano due le organizzazioni partecipanti. Quello che è stato escluso è un nome eccellente. Parliamo di Mauro Valenti, patron di Arezzo Wave, che è conosciuto in tutto il mondo per la sua oramai trentennale attività. Mauro, intanto buongiorno, benvenuto. Parliamo di trent'anni di attività sul campo. Sì, di due milioni di persone portate ad Arezzo, di aver fatto conoscere Arezzo un po' in tutto il mondo. Quindi qualcosa come fondazione, come Arezzo Wave abbiamo fatto. Eravato in due, hai perso per un punto. Sì, siamo arrivati secondi. Il piazzamento sarebbe anche buono. A parte i scherzi, siamo rimasti un po' sorpresi di questo perché pensavamo di avere un progetto interessante. Il nostro obiettivo era quello di ricreare un po' il percorso di Arezzo Wave cercando di mettere Arezzo al centro di una visione più internazionale e quindi di essere a pille per la gente da fuori per venire ad Arezzo l'ultimo dell'anno. Ne hai presentati tanti di progetti, quindi non era per te un'attività nuova? No, no, certo. Noi abbiamo vinto progetti col Ministero dei Beni Culturali, con la SIAE, con la Regione Toscana, con la Comunità Europea. Quindi, insomma, un minimo di esperienza in questi anni l'abbiamo avuta. Che cosa è successo, Mauro? Eh, hai detto sì, siamo arrivati secondi perché il nostro progetto, soprattutto, e questo noi abbiamo chiesto gli atti, ma non per fare polemica, ma per avere ben chiaro quelli che sono i criteri, chi ci ha valutato e quali sono stati i criteri per cui, nelle varie materie, diciamo, quando ti analizzano, ha credibilità, coerenza, concretezza, efficacia. Noi si è preso due, come a scuola quando ne hai studiato, e quelli altri dieci. Quindi, con questo voto, dato che le altre voci eravamo tutti in vantaggio pari, abbiamo perso per un punto. Figurati, se si perdeva dieci a quattro, si erano passati. Quindi, insomma, ci è sembrato abbastanza strana questa cosa e quindi abbiamo chiesto di vedere gli atti. Ma, insomma, questo magari la gente lo annoierà, poi noi eravamo convinti di avere un bel progetto. Un altro appuntamento in città, due concerti, uno stasera e l'altro domani, grazie ad Arezzo Crowd Festival. Due serate di musica dedicate ai giovani, grazie ad Arezzo Crowd Music Festival. Un evento per noi un po' che risulta essere un unico, perché organizziamo all'interno del Lab 20-30 di Yamasaccio queste due serate di musica, con venerdì da Roma Giancane e sabato la band fiorentina La Notte, sempre due artisti dell'etichetta Woodworm, che è, insomma, uno dei punti di amante di questa città. E in programma due notti di concerti live che dalle 22 animeranno i locali del Lab 20-30 in via Masaccio 6 ad Arezzo, il tutto ad ingresso libero. Oltre a portare, come sempre, degli artisti nella scena retina, ha l'obiettivo di riqualificare un luogo, diciamo, poco valorizzato della periferia di Arezzo, così come facciamo con l'associazione Arezzo che spacca, ad esempio come è stato con il Malpighi Festival. Quindi l'intento è proprio quello di portare delle iniziative culturali e creative che mancano un po' nella città. Non solo, al Lab 20-30, oltre al Festival, sarà presente anche la mostra fotografica di Susanna Caperdoni e D'Agnese Andreoni. La maratona di musica di Arezzo Crowd & Music Festival si concluderà infine domenica 18 con la cena con delitto a cura di Baobab. È l'ennesimo progetto dei centri giovani comunali, realizzata poi con neanche tante risorse, quindi ringrazio Arezzo che spacca, che con poco riesce a dare tanto. A Castiglion Fiorentino invece prosegue la stagione teatrale al Mario Spina che ieri sera ha ospitato Don Quixote, tragico media dell'arte. Avevamo in mente di lavorare sulla più grande coppia comica che fosse mai esistita nella storia della letteratura, quindi Don Quixote e... No, 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 Chixote e Sancio Panza, per quanto dire. Allora, un'intervista seria e va fatta con tutti i crispi. È tutto troppo serio, è arrivato per... No, siamo in uno splendido teatro qui al Mario Spina e va a fare le cose che vanno fatte con un certo criterio. Se chiude l'ultimo atto del processo Cesa de Roma, qua rappresentata da me, inquisitor veneziano, contro Giulio Pasquati, padovano, in arte pantalone, e Girolamo Salimbeni, fiorentino, in arte piombino. Siete voi gli attori Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni? No. Un Don Quixote sul patibolo con Sancio Panza, la storia raccontata così da due improbabili saltimbanchi in un tosco veneto. Signore e signori, se quest'oggi siamo qua... E vivi... E grazie a voi... Ma sì, perché se stavo con i vostri applausi, ad aver salvato a morte certa, no, esimi rappresentanti del teatro veneto e toscano... Sul palco del teatro Spina di Castiglione Fiorentino, lo spettacolo Don Quixote, tragico media dell'arte, diretto ed interpretato da Michele Mori e Marco Zoppello. Il rapporto tra Don Quixote e Sancio Panza, quindi tra Servo e Padrone, un pochino ci ha ricordato il rapporto che c'è tra le maschere della comedia dell'arte, quindi tra Pantalone e Arlecchino, giusto per citare quelli più immediati. E quindi abbiamo lavorato un po' su una cornice, che è l'ultimo desiderio di due attori condannati a morte. E quale può essere l'ultimo desiderio di due attori condannati a morte? recitare. Io invovo il diritto del condannato a morte a venire esaudito il suo ultimo desiderio. Ultimo desiderio? Sì. E quale sorrisse? Poter recitare una bella commedia. Ma è per me un bel piatto di baccalà qua po' enta. Ma quando ci vedi a mangiare un piatto di baccalà? Un minuto al massimo. Sei a recitare una bella commedia? E un'ora. Vorremmo recitare una bella commedia. Protagonisti e assoluti della scena, due personaggi, Pasquati, Padovano in arte e Pantalone, e Girolamo, Salimbeni, Fiorentino in arte e Piombino. No, resta a Rezzo, però tornare insomma... In zona, in zona. A Rezzo è possibile arrivarci. A Rezzo bisogna lavorarci. Se diventerai... E se è bravo. No, tu, se un giorno sarai... Io il Goldoni l'ho fatto, Padova, il Verde, tu. Se un giorno sarai bravo e meritevole, perché questo è come Pinocchio, senti un po'. Merite, sarai bravo e merite... Se studierai... Se formerai in un bambino vero. In un bambino vero, dove potrà anche... Che questo bambino potrà recitare anche il bellissimo teatro Petrarca di Arezzo. Adesso godiamoci il Mario Spina. Due attori della celebre compagnia dei comici gelosi, attiva e applaudita in tutta Europa tra il XVI e il XVII secolo. Uno spettacolo che ha portato fortuna alla compagnia, diciamo, è il primo spettacolo che abbiamo fatto nel 2013, ha rilanciato la compagnia e ci permette tuttora di vivere, di campare e portare a casa una bussa della spesa. I due sono così saliti sul palco per raccontare alla platea di come sono sfuggiti dalla forca grazie a Don Quixote, a Sancio Panza, ma soprattutto al pubblico. Sempre più di sognatori e di gente che lotta contro i mulini a vento, c'è un bisogno perché, insomma, l'utopia è anche una cosa che ci spinge a continuare a camminare, magari appunto non ci si arriverà mai a sconfiggere i giganti, ma chi lo sa? Se smettiamo di provarci, insomma, l'utopia ci alimenta, è un fuoco che ci brucia, è un po' come il teatro. Veniamo a un tema di spettacoli perché parliamo di Cinema Eden che nei mesi scorsi ha rischiato la chiusura, a due mesi di distanza dal suo inizio, continua la raccolta fondi a favore appunto del Cinema Eden di Arezzo in cerca di una strada insieme al proprio pubblico per proseguire per tutto il 2020 La partita è nella programmazione d'esse e dell'accoglienza. Il crowdfunding ha quasi raggiunto la metà del proprio obiettivo, i 40 mila euro per non dover chiudere a fine marzo, una meta importante grazie ai 300 sostenitori che hanno deciso di fare e dare il proprio contributo. Sport, calcio domani alle 14.30 in programma, la partita Tresti in Arezzo per il campionato di calcio di serie di girone e abbiamo avvicinato il tecnico della squadra Maranto, Mister Indiani. Mister Indiani alla vigilia di questa importante partita contro il Trestina da ora in avanti l'Arezzo può sbagliare poco o nulla? No, 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 dobbiamo sbagliare mai, dobbiamo far bene, dobbiamo far bene sempre ma ce la mettiamo tutta, ce la mettiamo tutta e convinti, convinti veramente di poter far bene. 19 partite, ancora il campionato è molto lungo. Figuriamoci, non è finito nemmeno il girone d'andata, è lunghissimo, 19 per 3 fa 57 punti, un 57 punti in palio si può verifiare tutto e contraria di tutto. Che avversario si aspetta domani? Trestina che non è che se la stia passando molto bene. Però sono tutte difficili, abbiamo visto domenica a Itau, a Itau non se la stava passando bene, abbiamo risultato i sconfitti, anche se in maniera particolare, io oserei dire, in meritata in massimo, però il campo ha detto questo, quindi ha accettato, sicché figuriamoci anche domani, domani sarà difficile, ma tutte e tutte, tutte le domeniche. Al di là dei difetti che possono venire fuori proprio in questi momenti, però l'Arezzo gira veramente male. Eh sì, però non bisogna attaccarci, sicuramente non è un'annata fortunata, sotto tutti i punti di vista, però... Per il momento. Per il momento, ecco, per il momento. Speriamo che da domani il discorso giri e il calcio succeda anche questo, però dobbiamo essere noi a farlo girare ancora di più. Allora, ultima domanda, ci può confermare il rientro di Risaliti dal primo minuto? No, il primo minuto non lo so, però a disposizione sì. E rimaniamo in un ambito di sport e di calcio, questa volta calcio speciale, perché si è disputata in settimana la prima giornata di un campionato che va oltre il risultato, dove i protagonisti sono i ragazzi speciali del nostro territorio. Si tratta dello Special Futsal 2022-2023, organizzato dal Comitato Provinciale della Wisp Sport per Tutti, in collaborazione con il Comune di Marciano della Chiana. Noi siamo andati a vedere. Si è disputata in settimana al Palazzetto dello Sport di Marciano della Chiana la prima delle sei giornate dedicate al Torneo Special Futsal 2022-2023 che annovera le squadre della nostra provincia con giocatori speciali, atleti che fanno parte di associazioni di volontariato del terzo settore di promozione sociale e della salute mentale. Ci eravamo lasciati a settembre con il Torneo Nazionale Matti per il Calcio, disputato sia a Cesenatico dalle squadre formate da giocatori e utenti dei centri di salute mentale di tutta Italia. Per la Toscana aveva partecipato una rappresentativa a tutta retina, formata dalle associazioni Colle del Pionta e Clae Electra. Oggi si riparte a livello locale, dopo quasi tre anni di stop, si sono scontrate in un girone all'italiana le squadre Tallone d'Achile di Bibiena, Arcadia di Terranuovo a Bracciolini, Cam di Cortona, Clae Electra e Colle del Pionta a sud-est di Arezzo. Il torneo è stata l'occasione di una vera e propria ripartenza, suggellata agli auguri di Natale, tra una fetta di panettone e un brindisi, insieme ad un ricordino per i partecipanti. Non potevano mancare alla fine le coppe per le cinque compagini. A premiare le squadre sono stati il presidente del Comitato Provinciale Wisp, Marisa Vagnetti, l'ex presidente Gino Ciofini e il sindaco di Marciano della Chiana, Maria De Palma. Il prossimo appuntamento è fissato per lunedì 23 gennaio. Questa era l'ultima notizia per questa sera, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di Arezzo TV.